Ragazzi per questo video vi chiedo 5.000 like E vabbè Nike Ragazzuoli per questo video vi chiedo 5.000 like perché Nico ne ha combinata una delle sue Riuscito ad avere in anteprima Buckshot Roulette Che spero conosciate dato che già in questo canale l'avete visto Ma che cosa di Buckshot Roulette Leutum? Specifichiamo Il multiplayer signori Ebbene sì I primi in Italia ad avere il multigiocatore Nico ha un'aura incredibile in questo momento Siamo pronti Siamo carichi Let's go Ora vi invito Siamo già vero? Sì 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 No bro ma esce una schermata assurda Tra l'altro ci dovrebbe essere anche la intro Che adesso la andremo a vedere insieme Aspetta che vi invito High rollers Oh yeah ci sono Ci siamo Siete pronti? Oddio ma ci siamo tutti Sì noi c'avevamo il Stigo 17 Leutum e la loro acustre Siamo pronti? 3 2 1 Ci dovrebbe essere un intro Vamos Godiamocela Sì ci ha scritto skip intro Tu non lo schiacciarlo così No non lo schipperò The game is about to start Oh l'abbiamo fatto assieme Dovemmo baciarci tra due secondi te lo giuro Waiting for players Ok 3 su 3 Vediamo Uh aspetta aspetta Questo è il fuori Ah ma sembra tipo una banca No 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 è un posto abbandonato Dove fanno cose clandestine secondo me È una discoteca quella sorta Ok va sotto Ma è tipo Ma che No Bro Ma oddio Ci sono i round anche qua Sì 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 Bro Piccola cosa Hanno aggiunto dei nuovi oggetti Che scopriamo direttamente qua Che mi sta prendendo E no Oddio Un nuovo oggetto Ok Ah ok vi vedo anche voi che state prendendo gli oggetti Sì 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 Come funziona il multiplayer Allora cioè io ho due telefoni Una birra Vabbè tanto li vediamo Vediamo No ma io c'ho il telecomando di un condizionatore Come il telecomando Questo Bro non penso Ve lo giuro Forse per cambiare l'aria Accendilo che fa un po' caldo bro davvero Ma che cos'è Quattro rozzi e due blu Io da qui non vi dirò più nulla Escono in maniera No è inizio il baccalustre però Ma come inizio io Ma hai pelato Aspetta 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 Ma sei pelato anche qua nel gioco Cosa faceva l'inverter Come sono pelato nel gioco Eh bro te lo devi ricordare tu Chi sei tu Ah lo vedo qua No non mi guarda No no Ok Ma scusa erano quattro rossi e due blu No bro ma si può essere così Che figa Allora aspetta Io da un attimo devo capire Ma posso vedere cosa avete Ma non mi fa vedere Allora da qui vedo che Io vedo te bro Allora il condizionatore lo lascio Sare a Leo Voglio Voglio subirlo Voglio capire che cos'è Ah bro non è un condizionatore Te lo giuro Ma per me è un condizionatore E intanto mi gioco una cosa Che è Che è Voglio provare questo Cos'è Bro cosa sta facendo quel dito Te lo giuro dal mio po' Ve inquietantissimo Poi è tipo una maschera antigas Sì ma ognuno ha una faccia diversa Una skin diversa tipo Boh ti ho fatto qualcosa contro Lollo non lo so Ok No non ti preoccupare Lui c'ha doppio Tra l'altro vorrei Vorrei sottolineare ragazzi Che io sono nelle backrooms Tanto quanto noi Sto parlando del telefono Ok 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 Buono Buono a sapersi Devo un attimo provare una cosa eh No la prova su di me Io lo so No mi sta guardando me bro Eh no Che cacchio È volato No Non è divertente È vero che Nel single player Non abbiamo mai avuto il povero Di come ci ribaltiamo Quando vi abbiamo colpiti No io lo voglio vedere però No non farlo su di me Ma serio Cosa fa Cosa fa Oddio Che cos'è No ragazzi ragazzi Ho acceso qualcosa Eh che cosa c'è Ma lo sento freddo Sento freddo Non puoi sentire freddo Non ha senso Non esiste il 3D No guarda chi sta guardando Guarda chi sta guardando No 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 Non sta guardando nessuno No no mi stai guardando Mi sta guardando Ma ti pare che ti guardo Ecco Oh ma che stai aspettando Più del 70% di voi Non è iscritto Iscritto Prima che ti vengo a cercare No come tocca Nico Eh si perché ti ho fatto saltare il turno Allora Ah prima con quel coso stiano Era quella roba lì Eh si eh Ma io ti auguro il peggio Nico Non puoi augurarmi sempre il peggio in ogni video Allora aspetta Dai facciamo 1 e 1 ora Però aspetta Ma erano 4 blu 4 rossi all'inizio Eh no Non lo so No non mi ricordo Io non mi ricordo No sono 4 rossi Nico Lo sa benissimo Leutum Fallo fuori Nico Fallo fuori Ma qui ha chiamato il telefono Eh ma infatti Eeeh Fallo fuori Scusa scusa Sto pensando Perché mi ha detto una cosa In teoria Mmh Shell è vuoto Il brus sta parlando al telefono Non so cosa sto facendo Ma poi c'ha la sua testa Guarda la sua testa Fra sembra quando Leutum cade nei suoi jumpscare nei video È identico È vero Ma com'è che tocca Leutum Ma mi avete fatto saltare 6 turni No uno Uno che vale per due Eh no è uno che vale per due Il giro è quello Ma sbaglio ci sono solo rossi Non so di cosa sto parlando Leutum 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 No Nico Però poi mi stai solo bullizzando No non è divertente ragazzi Non è divertente Oddio ma Ma perché non ho capito Ma ti faccio Sono rimasti tutti gli oggetti però Sì quello sì Vengono conservati Sì però io ho una sfortuna su No ragazzi Io non ho beccato niente di nuovo Buona Ma potrò giocare adesso Per favore Ma i salvi quanti sono Adesso lo vedi Uno e uno Ti prego fai che tocchi a me Fai che tocchi a me Fai che tocchi a me Non può toccare a me Ti prego fai che Nooo Tocca a me Ma proprio mal ci sta Scusa No è finito E' vero con chi se la prende sto qua È stato bullizzato da entrambi Più o meno No Nico ti ha bullizzato di più Non è vero dai Leo però Nico ti ha bullizzato di più Nico ti ha bullizzato di più No 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 Ma no ti giuro che Se tocca a me ora Tocca a Leo tu Leo sparagli Leo per favore sparagli Ma tanto c'è il fucile a salve bro Allora avete entrambi due vite Giusto? Bro ma c'è il coso C'è il coso azzurro Eh non importa Ah sì è vero Sì No abbiamo entrambi Sì io due vite A lui a lui a lui Io ti ricordo che è il più intelligente qua Su sto gioco eh No 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 Cos'è che hai tirato Leo Non ho visto Ma sta facendo Pizzo di me No Spara a lui Spara a lui Ti prego Leo tu qua No guarda 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 che sta lasciando suspense Guarda guarda No 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 bro 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 Fermo fermo Quello lì con il sorriso malefico Nella camera Allora facciamo una cosa Fra io prendo il volo per la Sicilia Te lo giuro Facciamo una cosa Lollo convincimi a non spararti Bro io Allora Sincero Mi toglieresti e basta Ma quello più intelligente Contro cui giocare seriamente È Nico Quindi Nico Rimarresti contro di me E vinceresti Ti voglio bene Vabbè anche io li voglio bene Io ammazzerei per l'Eutun bro Io sincero Ammazzerei per l'Eutun Ammazzerei per l'Eutun Ammazzerei per l'Eutun Ammazzerei per l'Eutun Guarda Varei imbarazzato Davvero Ma sono vivo però Sì ma per il prossimo turno Mi sa Ok No mi sa che nemmeno Cos'è il prossimo turno È che vi vedo tutto tipo in bianco e nero Beh sì perché sei morto So round Adesso toccherà a me no No Caleo che sta facendo Ma spero di no Ma chi è G Vediamo Ma io li vedo tutti grigi 3 rossi 1 blu Mamma mia È carichissimo Ok Oh è finita È finita Niccolo poi lo sai cosa devi fare Hai capito Tu un bus Hai usato il condizionatore Gira l'ordine del turno Per quello è toccato Ah ma io vi auguro il peggio ragazzi Cioè mi avete bullizzato tutto il round No Gameboy No è quello di prima Sì 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 No Aspetta tu cos'hai lì No non mi posso Ma ce n'è uno Ma usa la lente Nico Sparagli dai Ma stai zitto Allora fammi concentrare fammi Devo capire un attimo come Porca mi sembra rubato il coltello prima Allora faccio Non hai cosa per rubare No Cioè sì ma Ok Ah però non ho già ti word Ma che cosa Nico puoi farlo Perché tu non hai nulla lì Eh no È tutto inutile Eccolo Eccolo Famma Ok Sì c'è una vita Leo No no ne due Hai fatto l'errore bro Hai fatto l'errore Perché Nico in questo momento Cioè tutti gli oggetti Non c'avevo niente fra Avresti vinto Invece no Hai voluto fare il guidi Se non hai niente Bro ma non c'ho niente di oggetti Ma che cacchio Guarda Nico c'ha le lenti bro Ma ti spara di nuovo Hai perso fra È finita È finita Leo Aspetta aspetta Non parlate Bro Nico sta studiando Tipo la mossa più Intelligente da fare Ok Ce l'ho Guardalo È finita No Ok Dico non fare Ma l'hai vista con la lente Ma che cosa sto dicendo bro Dai fallo Do it Rimangono anche più oggetti Nico No stai temporeggiando Vabbè Vabbè bro Questo è flexare Questo stai flexando Sì ma ha tolto il rosso Sì Eh lo so Sì però C'è un altro rosso Ha vinto Nico No perché ancora una vita Leo E quello ho dovuto giocare così Perché così non giocava questo turno Aveva tre vite Le ho tolta così Ma che cosa è tolto No lo posso dire Mi sono usciti tre telefoni Cos'è che volevi dire No niente Tre tre Ok qua si gioca le percentuali Eh sono tanti sei Eh tocca a Tumus Giusto 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 così Allora che cos'ha Tumus Bro c'ha il coltello Non c'ha il coltello Non mi fa venire ansia Non c'ha il coltello Bro io non capisco Perché vedo tutto grigio Io sono già dal tonico Vedo tutto lo schermo grigio Speriamo che capiti bro dai Eh bro però si autospara Intanto giusto No si accende il sigaro Giusto Cosa succede? È rosso No si spara Leo fallo Leo do it Adesso ti gira e tocca a me Ma si scuro che non hai il coltello bro Che cos'è quella roba lì? Ma è silenzioso Guardalo quanto sta traiardando No bro Quello sta C'ha il sorrisetto malefico in faccia Leutum Ma ti pare che io mi devo rivedere sette volte il video Per capire cosa stava facendo? Devo studiarlo Sì ma Con l'1v1 il condizionatore che fa? Eh non lo so Infatti io non l'ho usato Tocca di nuovo a me No adesso diventa il mio tour No vuoi vedere che No secondo me tocca leutum due volte Ma lo spero Eh se Io non l'ho usato perché non volevo rischiare Però effettivamente potevo vincere prima Ah Ok Palesemente non avrà capito perché ha scritto in inglese Stava lì a cercarlo su Google il traduttore Guarda che voglio saperlo E infatti ha preso il telefono proprio per quello Perché ti conosco No è finita Cosa fa? Ah Ok Go tocca a te Nicola Aspetta Tocca a me Ma scusa il condizionatore Eh mi sa che non funziona il duo Vabbè l'avete usato per buon usarlo Ma scusa il cambio il giro su 1 funziona Eh boh Non lo so Comunque allora sono Erano 3 3 Sono rimasti 3 rossi e un blu Ah ok ok Tanto fammi fumare un attimo Che devo un attimo ridassarmi Che bruttissima cosa Ragazzi non fumate No no infatti no Sto pensando se posso fare qualcosa in più Ma mi sa di no Però comunque il tuo personaggio sta facendo tipo Wait They don't love you like I love you Lo fa Ok È giusto Gli otterrano in tuo favore Nico Bravissimo È giusto che sia così Ora tocca a Leo Ma tocca capire io mi sono scordato che manca però Eh Ma è che cosa Bro è in teoria è 1-1 Ti dice sempre la stessa informazione di prima Il telefono lui lo legge come One shot in cin cin Non lo legge così Il telefono è impossibile Eh Tu puoi dire solo quelle parole in giapponese Hai un 50-50 Leo Immaggia se mi spari E becchi il blu No è impossibile Dice impossibile Non può succedere una cosa del genere Ma è che ti spacco la faccia se ancora parli Tocca a te comunque Hai l'allentr'ingrandimento Leo Cosa che hai sulla destra Hai una birra Hai una birra C'ha due adrenalina e una birra Salute È anche il raffreddore Bro se vuoi rischiartela Allora sono due rosse e una blu Usi la birra e vedi Ma ho fatto schifo Non posso fare niente Poi lui c'ha pure i telefoni È finita È finita No no ragazzi non è possibile Non ci credo bro No no aspetta No 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 aspetta Questo è il karma Leo Tu mi io godo Ma che karma è Ma che mi hai tirato giù a me Io te l'ho detto di tiraggio unico Che è il più sveglio qua dentro È il più intelligente bro I 17 sono Il quoziente intellettivo Che ha il più rispetto Bro come ho Bro ma come ho Bro ma come sei vinto i soldi Ok il primo round è mio Vodo È solo il primo round No way bro È solo il primo round Secondo round No bro è bellissimo Cinque vite Lo giuro Ok porco cavolo Cos'è sta roba No mi ha portato via gli oggetti Eh sì è normale Cos'è Ho un Ho un tiro e comando Di un Di un A chi tocca Ah intanto sono Due blu E tre Due blu e tre rossi Ok la me dai L'ho perso io Fatemi iniziare a me Ah Allora Remote Swaps the current turn Ah vabbè Ah vero ma non lo sta giocando No è vero c'è anche l'ollo Ecco 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 Ho stoppato Sincero Ok adesso sono pari Ora sono due e due Ha fatto Le uno inserialzato Mi sa da questa cosa Allora Come stai Leutum Tutto bene? Tutto bene grazie Bro ma è bellissimo il personaggio Guarda come se la cilla Due e due Perché poi voi avete un po' diverso Tu lo vedi davanti a te Giusto? Sì E io lo vedo a sinistra bro Abbiamo due po' diversi di questa cosa Vediamo Cosa mi dice Ok Ecco Ma io ragazzi Io mi scordo Che cosa No ne manca uno rosso E tipo due blu Sì Te lo dico solo perché sei tu dai Ah vabbè ma Jill Che coraggio Come faccio ad auto Che fa quello È pazzo Ma che cosa devo fare Sono tutti blu bro Ma quello Sì sì Sono tutti blu Eh vabbè Non pensare che non me lo Volevo soltanto finire Quindi ora di auto Da che spara A me Eh bro ma almeno siamo tutti pari No Leo c'è una vita in me Vabbè povero Leo Sì che sfiga che ha avuto Leo comunque Cos'è sta roba C'è un simbolo Dammi Dammi un colcello Ok Ok Sto giro mi è andata abbastanza bene Vediamo Dai dai ci sti colpi 3-4 3-4 Astoround sta diventando cattivo Il primo era un po' più gentile Sì tocca a Nico Sì 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 Tocca a Nico bro Ok Allora Nico sta tipo usando tutte Vabbè va sul sicuro È giusto Ed è blu Ed è blu te lo dico io No secondo me è rosso E non Non inverte E spara a me È blu lo inverte e spara Allora devo capire una cosa Sto analizzando Nico Vabbè Ok dimmi di più Nico Mi piace questa ricarica di vita Ecco Era blu Avevi ragione Leo Pareggiamo un attimo il conto Ecco Ok Ok siamo 3-3-3 No anzi tu 4 No no io sono 5 No 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 3-3-5 siamo bro Te non hai capito Ah 5 Ok Facciamo un bel 4 Bravo Quindi quanti ne sono rimasti I proiettili Non ce lo ricordate Bravo Non si miscero Allora sono 3-3 3-3 rossi e 3 blusi Ok bravo Minchia ci ho pensato un bot Eh ma guarda che Cos'è Ah L'ho visto Cosa fa Grazie Gentilissima Vabbè glielo restituisci Immagino ora Eh sì Oppure potrei anche fare tipo Non ti ho sparato Dai Non ti ho sparato Bro ma c'avevi 5 vite Ma scusa Non mi piaci Eh allora adesso ci faremo a Leo Che ne ho ne più Ah ma mi hai rubato il costello Ma che ho fatto io Ne ho sparato A parte quei Fatemi smoccare Allora prima volta nella mia vita ragazzi Prima ultimo Io non Aspetta cosa fa il telefono Vabbè Fammi vedere il telefono Ti dice Chiami il papa Non credo che il papa Sappia queste cose un po' mafiosi Aspetta Aspetta calma Avete usato gli invertitori Eh non si sa Ce ne sono due 3 2 4 9 7 2 1 8 3 Sai che cosa ti dico bro Non mi piaci Oddio Non l'avevo vista In canale Ma tu sei veramente un pazzo Sai cosa ti dico Bro ma Vabbè ci stava dai Me la sentivo Invece Questa situazione mi fa veramente schifo Ok Non mi piaci Mi sento veramente a disagio Allora Nico Vuoi una hint Che hint Però devi giocare con me Eh Questo qui è blu Ma l'avevi invertito prima Boh può essere Lo devi stare attento Sul gioco se perdi un secondo E' tutta finita eh In canale devo prendere carta e penna Pare che in 3 è un casino unico Non ridere No non ridere A lui A lui ti prego Dovevo pareggiare i conti Ma perché a me Ma c'è c'è cinquanta vita Ma perché c'è la volta che non sparo a Lollo Nico È finita ragazzi E ora Dai ancora ci stai due vite Sono un macello Vero sono tantissime Secondo me devi pareggiare il controllo Aspetta In che senso C'è il senso di te Aspetta No no Nico Aspetta Aspetta Però mi devi dire un hint Cos'è rimasto Io non mi ricordo più Sono rimasti due blu No no non va Signora È vero Vabbè è vero È vero No no è vero È vero perché sto pensando E quindi a chi spari Non l'ho capito No 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 Veramente fai schifo Pucci di merda Bro io Mi devo all'area colo forte Perché qua siamo Sono rovinato Sì ma lo sai che poi ci vai contro Se ti c'è a lei Vero Ok però Però almeno non vinci te Ma questo era un rutto Però Fra il mio 6 di cozzente intellettivo Eh guarda chi spara Sparerà a me Probabilmente No ti pare 2 Bro Bro Perché con la testa Sta facendo no Sta facendo la contas Amma 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 È stata la cosa più bella Della mia vita Ma io sapevo che era Amma 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 Eccolo Ok Mi sa che tocca a Leo tu Non ti sa Forse adesso tocca a me No tocca a me 4 rossi 3 blu dai Quattro rossi 3 blu dai Quattro rossi 3 blu Tocca a me Tocca a me No tocca a me A me No Tocca a Leo È giusto Dai Leo No ti prego ti prego ti prego Ti prego Leo Guarda che faresti fuori lollo eh Cosa vuol dire Fai fuori lollo se gli spari eh No tumbus Tumbus dai Tumbus No tumbus No tumbus Ma che fai? Però possiamo far fuori Nico Leo Leo possiamo fare fuori Nico Leo dobbiamo usare la lente E infatti Sei un pistola Non l'hai usata Eh ormai non l'ho usata Eh adesso fai Non mi interessa Ormai è rossa Ma vai 50 e 50 sul Leo Sul lollo Dai non se lo fai su di me Nico dirà tua ultima parola Non è la mia ultima parola No spara su di me Bella Ti voglio bene C'ha tre di vita Non può andare giù Sì ma poi rimane con uno Lo dobbiamo buttare giù No e dai Lo butto giù io bro C'ho la lente di ingrandimento Fra la lente di ingrandimento E il reverse Non è giusto Non è giusto Non è giusto Non è giusto Allora in realtà In realtà è molto semplice Qua la situazione Molto Ma guarda che Passai Va bene No va bene Va bene Va bene Va bene Me ne ricorderò Aspetta Di chi? Di me? No di me Di tutti e due Adesso vi revoco la chi è tutti e due Di tutti e due Revoco Tic No dai Ok Nico No no ti prego Ti prego Salutalo Ti ho voluto bene Nico Voglio il secondo round Sì ma se me lo dici dopo che sono morto Vabbè ti ho voluto bene Ma lo devi dire prima di spararmi No prima ti dico ti voglio bene Ma io ti ho detto ti ho voluto bene Va bene Adesso non ti voglio più bene Ma come più bene Adesso ho una massa in forme bro Ok Cosa sta facendo l'automine? Sta un attimo giocando al Game Boy Stava hackerando un Game Boy Non posso? Sì sì puoi farlo tu un bus Sì eccolo Che cos'è quella cosa? Non me la ricordo più Stai zitto Non te lo dirò mai Ah è quello che mi blocca al turno? Non è vero Mi fa morire ogni volta come capicolla a terra Ah invece sì Tocca ancora a lui Assurdo Certo che tocca ancora a me È finita Madonna che cosa rimane? Il cacchio fra rimane Allora se mi dici cosa rimane io mi sparo A me Bro Qualsiasi cosa sia Realisticamente non lo so Perché me lo avevo tenuto il conto Sennò te lo avrei idea No io nemmeno Nico No questo è il gioco No neanche lui l'ha tenuto bro Secondo me Secondo te va bene Io non dico sempre Lui c'è il conto della prima partita Sì io non dico nulla Eh adesso che fai tu un bus Cos'è? Ok L'avrei fatto pure io Cos'era? Non lo vedo Cos'era? Rosso Rosso ok Ma tocca capire che rimane ora Eh Io lo so adesso cosa rimane Eh beh A posto allora te lo levo No perché? È blu Ok era blu Eh No e quindi Lo dovevi invertire No no ma non sapevo fosse blu capito Se no l'avrei invertito Adesso non sai cosa rimane però Spera Oh ma cos'è che sta roba che puoi usare oggetti Se l'ha corto Se l'ha corto Infatti Dicevo perché non mi ha rubato a me? Eh no no perché stavo dormendo Sì ma mi sa che dopo questo non c'è più niente però eh Però potrebbe toccare a me dopo Scusa tu un bus Ma non ho capito no? No è come glielo rubo l'invertitore Cosa vuoi dire come glielo rubi? Non ce l'ha più Non ho più adrenalina Ma prima non dovevi rubare la lente È che rubavo l'invertitore Se non sapevo che c'era Eh sì sono solo blu E non lo sapevo Ho perso il conto completamente Ti prego Mi serve quell'uge Dammi cose buone ora Devo tenere il conto mannaggia a me Dite mi colori per favore Ah tre blu Due rossi e tre blu Ah tosto questo Adesso dovrebbe toccare a Eh Eh No no perché ho sparato a lui che era rosso giusto Sai cosa ti dico? Che fai pazzo questo? Shhh zitta Hai tolto il rosso? Ho tolto il blu Ok Lasciami cucinare Nico Vuoi vedere cosa ti faccio Nico? Una cosa sola puoi fare Ok Non mi piace Giusto Non mi piace Vabbè 75% che sia rosso A posto Dai che è blu Dai che è blu Dai che è blu Sì È finito Però Non è detto in realtà Almeno gli ho tolto il seghetto bro Sono contento Devi stare zitto Ma che cavolo di sfiga Ci sono ancora dei cosi blu Comunque era 50-50 eh No no Era 75% rosso Ora è 50-50 Sparati Sparati No 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 Sparati E cado Avresti vinto Perché era blu Aia Non era blu bro Vediamo Cosa hai buttato il blu? Cosa hai buttato? Ah ok Aia Finito il turno Aia Leo Tum Aia Leo Tum Oh che cos'è quella? Oh 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 Cosa vedo Cosa vedo Ti prego No tocca lui vero Eh proba In teoria Se fosse giusto Sì 4-4 Oh cacchio 4-4 peso bro però eh C'hai coltello Tumbus? No Sì che ce l'hai bro No non ce l'ho Bro hai vinto Hai vinto Leo Era la lente quella Stai zitto Stai zitto Eh sì ha vinto Leo Sì secondo turno ha vinto da Leo Ci sta Ci sta No no vuoi salutare i telespettatori? Allora ragazzi io vi posso dire soltanto una cosa Forza Napoli Forza Napoli Un'altra cosa Un'altra cosa Leo tu in realtà ti voglio bene anche se mi farai fuori Ma veramente? Assolutamente sì bro Io no Abbiamo il terzo turno No Bro e se lo vinco io? Sì no Ma che cosa ti sei messo i soldi da parte? Giusto giusto Ok quanto ti abbiamo? In realtà c'è tanta fortuna Inizierò io per una volta? No secondo me inizio sempre io bro Ma perché? Dami un coltello Dai Bro mi hai dato sei i telefoni Cioè cosa me ne faccio? Ho due cellulari Non serve che chiami Due e due Ti prego Sarebbe giusto Inizio io bro Inizio io Ma perché dovresti iniziare Tu io non ho mai Oh Cavolo brutto questo Cosa sta facendo Nico? Mi sta togliendo il turno Ah l'ha tolto a te Ma palesissima Guarda quanto è la lente La lente intelligente Mi piace perché è l'invertitore Quindi è un danno sicuro qua Nico Esatto Era blu Ora diventa in vantaggio il rosso Dovrebbe essere Allora questa è proprio cattiveria Contro l'Euton però Ma come tocca l'EU? Ah no Allora io Vi dirò Nico è concentrato Ma anche l'EU è concentrato Ok so So un'informazione molto buona La rischio No No Che fa Ma questo è pazzo Bro avevo l'informazione dal telefono Cosa ti è rimasto Nico? Niente Era blu Non c'ho oggetti Meglio per te che era blu Ok Ok Bro non è possibile Che ho tutti questi telefoni Dai ma che Che oggetti di schifo Bro pure io Vai tranquillo È il momento di allearci contro l'Euton bro È giusto Perché se no se vince lui Ne vince due su tre Non mi va bene Ma guarda quanti agenti che ha Guarda che robe c'ha Ma dove c'ha la bancarella No ragazzi No niente È andato Mi spiace C'ha sei seghe bro lì sul tavolo Dai no no Dai non fare cose brutte Tumbus Bro sta guardando direttamente Sì mi sta guardando Non negli occhi Nell'anima Ok Telefonata Ho un sicario Evidentemente Adesso mi arriva uno dietro Che mi accoltella Bro sblocca la cosa Non fare così Non fare così Metti ansia Non respirare Cioè respira Non respirare Non respirare forte Mi viene l'ansia Sono completamente arrabbiato Ma allo stesso tempo Posso fare poco Ok sì Ma tu prima hai chiesto L'alleanza all'ollo contro di me Scusami Io mi devo in qualche modo difendere Bro cosa prendi? Porca miseria No mi servivano Mi rubano un sigarettone Aia Aia Leutubu come back Guardalo Guardalo Guarda provo un colpettino così Tranquillo Uno uno solo Perché non so niente ancora Ok va bene Va benissimo Lollò Lollò Lo dobbiamo far fuori Lollò No 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 Allora No no però spera Spera Cos'è rimasto Nico Cos'è rimasto Lollò Rimaste solo robe rosse 50-50 Bro ma uno ne ha sparato Ed è uscito blu Quindi sono 50-50 No? Raga perché mi state Sto dicendo come se fosse scontato Dimmelo e basta Potrebbe essere 50-50 Dai facciamo sta chiamata Ok Oh è pazzo Io sono pazzo bro Io sono un pazzo Io sono un pazzo bro Ma chi scusami No era black Black Ok va bene Nico questo è rossa Ok va bene Ok va bene Ok No in realtà non lo so Solo che quello dopo è di un colore Fammi concentrare Guarda 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 stai zitto Fa la call Fa la call Fa la call questa Ti avrà detto che il secondo è blu secondo me Cosa ti ha detto il sicario bro? Il sicario di Leutubu Cosa ti ha detto? Aspetta fammi concentrare Cosa c'avevi in bocca bro? La mano la mano Perché sono concentrato Ma che cosa stai facendo? E soprattutto a chi spari? Guarda che prova di nuovo a me Non ci credo Bro qua è un rischio Non mi volete così male Cos'è? Non mi volete così male È invertito il turno Non mi Non mi volete Non fate così No non guardarmi così Nico Ma no No però No però lo sai Io non ho niente Lo sai bene che cosa devi fare per vincere Nico Non guardarmi così Però non va Non posso fare questo scelto tra due amici Bro sparati da solo allora No non mi sparo Però è peggio di giocare a uno sto gioco No 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 Continuai Continuai a bullizzarmi Dai sparami No ti giuro Mi stai cercando No perdiamo una misizza così non posso Ma non è vero Tre colpi avete provato a sparare su di me Di quei uno Col costello Questo sarebbe il secondo Vai voglio lo sparo a me Lo vuoi? No Ti vengono Ti vengono Ti vengono Mi vengono Mi vengono Mi vengono Mi vengono Mi vengono Niente Ho sparato a me È davvero incredibile Ok Lolo tocca a te Solo per quello ho sparato a te No non è vero Ma cosa? Ma sei letteralmente fatto il condizionatore E infatti Vuoi sparare a lei ora? Eh a po No anzi No posso Mi sparo da solo Mi fa ridere Perché al posto di quella testa lì Mi immagino No che fai? Ma sei un criminale Come invertire le situazioni No no Allora adesso però Leo Io ti ho risparmiato Potevi essere a due vite Allora diciamo che adesso Io vedrò In base alla situazione Eh certo Guarda qua la situazione Leo Leo Non sprecare niente Bravo Quella ci sta Non usarti l'aliente di ingrandimento Tienitela E vai diretto con il rosso Con Ma cosa? Ma cosa? Ma perché è rosso Leo Tum? È rosso Ma chi te l'ha detto Che con la sfiga che ho io Prendevo l'unico blu? Ma non è vero bro È rosso Dai spara 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 Mi lo so già che vuoi fare questa cosa Sta pensando Dopo che ti ho appena dato sei consigli Ecco Dai lo facciamo fuori questo round E ce la giochiamo alla fine Tu mussarla pari Allora Allora Dico mi hai risparmiato È vero Io ho risparmiato due danni Lollo più volte Ti hai dato consigli Su come tirar giù Ma tu puoi dare consiglio Ma che ti sembro cretino Ma che ti sembro cretino C'ho 2000 ore di gioco Eh lo lo Fallo fuori E ce la facciamo io a te Ok Potrebbe salvarsi Non si salve Ok Ma tu sei in netto vantaggio Perché tocca a te ora Ok Telefonatina Sul 50-50 Giusta Ma che mi prendi per il culo? Ma non mi ha detto Ma non mi ha detto niente Come non ti ha detto niente? Mi ha detto È rimasto una sola cosa Che è un Erano 1 e 1 No mi sa che ho sbagliato Bro Gira quel cristo di invertitore Spara Nico Per favore No 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 Aspetta Scherzi a parte Cioè io mi ricordo 1 e 1 No Leutum Io te l'ho detto Aspetta Se io mi autosparo ed è blu Tocca poi a me dopo No perché è finito il round Io non ho capito sta cosa Sì 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 certo ovvio Anche quando finisce il round No Ah quello non lo so Perché è rossa No 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 Aspetta No 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 Quando finisce il round Non lo so Quello non lo so E per questo io sono Se no mi sparerei io No Usa l'invertitore Ma se c'è il coso blu Ma non mi ricordo se è blu Se ti dice How unfortunate Cosa può significare Leutum Vabbè Magari Grazie Bro è Byron che dice How unfortunate Madonna 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 Me la prendo con l'ollo Allora calma 3 vite 5 vite Dopo quello che mi hanno fatto ragazzi E vorrei sottolineare Io lo sto aiutando Ma dai Ma per cortesia Sai fare solo alleanze Ma solo alleanze cose Io vi aiuto perché siete i miei amici bro Sì Ma se ci stiamo togliendo la vita Vabbè ma mi sto aiutando anche a tutti però Sei rimasto Eh Tu Io mi ricordavo che erano due proiettili Eh Rosso Nico Usa quel coltello Aspetta aspetta Sto un attimo pensando C'era solo una salva all'inizio bro Come può essere una cosa rossa Chi che hai iniziato questo round? Io E c'era una sola Un solo proiettile bro Sì 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 E l'ho fatto invertire Leutum l'altro Sì sì Allora mi ricordavo giusto Mi ha fatto una confusione prima Sono la voce nella vostra testa Ok Guarda preferirei spararmi che sentire quella vocina in testa Ti prego Lente e coltello Lente e coltello Ti prego Ma che ci devo fare? Eh vabbè Guarda cosa gli è uscito 1 e 1 Ok A me Ti prego A me Ti prego Ti prego Prima ha toccato a lui No tocca a me Tocca a me Dai non è giusto Non è giusto Io mi oppongo Io dipongo Io dipongo Io sono dipongo Dai non è giusto però Leu Aia No dovevi usare il coltello Ma sei pazzo bro Ma perché? Perché ero 1 e 1 Ok ho rischiato Ma che hai rischiato bro Cioè avevi il coso per farmi saltare il turno No non funziona Come non funziona Sì che funziona Ma funziona Non è 1 No vero L'ho fatto prima con lollo Aia Hai usato la lente? No Cos'era quel rumore di vetro? Se ora tocca a me hai perso Tu un busito lo dico Ma è ovvio che hai vinto Dico Ormai è tua Ma no ma ho sbagliato Ma sono stupido Quel coso là dei turni Eh sì 3-2 4 rossi 4 rossi A meno che Ah ok fa iniziare quello che c'ha meno vita Ho capito dai Ma comunque guarda non c'ha niente Leo Non ha niente Può vincere Alla call Eh no mi serve questo Mi serve per forza Ah la lente Ok è il rosso A meno che non lo inverto Pam Ok Io ho sbagliato una cosa comunque Bravo Esce il rosso mi sa Sì Voglio usare l'invertitore Lo fai Voglio usare l'invertitore Hai preso la birra No l'ho usata prima Ho tolto un rosso Secondo me queste due L'ho usato l'invertitore No Leo dove hai usato l'invertitore L'ho usato l'invertitore Bro no Bro hai usato la birra Allora ragazzi Ma lo vedrò io cosa uso nel mio tavolo Eh a me ha fatto vedere che hai usato la birra Ho usato una birra e adesso l'invertitore Adesso proprio Eh no a me ha fatto vedere che hai usato la birra adesso Ah no 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 Ho usato l'invertitore È per quello Eh se ti avessi usato l'invertitore Avevi No ha vinto no però Eh no Se beccavo il rosso vincevo Se non era 50 e 50 Bro non serve Ha uno di vita Lo giuro E questo è solo un flexaggio Ecco Almeno soffre di meno no Quanto mi dà? Ma quanto vinco? Ma li voglio tutti io Ma io non ho visto lo sparo comunque Io non ho mai visto i soldi invece Ma sì Ma se è successo C'è una cosa di strano bro Ma Oddio Guarda che ci sei te che voli Leo Ma dove sono? Lì lì in alto lo vedi? C'è io Oddio Mostre source full Oddio L'olio lacustre L'unica cosa in cui Ho provinto Leo tu per statistiche No Più morti Ah no stai una Cosa vuol dire Cimni De Cimni Il camino tipo Vuol dire che Quello che ha giocato di più Quello che ha fumato di più Ah è vero 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 Bello Bellissimo Bello bro Bellissimo Ragazzi la prossima volta Ve lo giuro Che vincerò almeno una partita Però no vabbè L'eutubo ha quitato Bro ma non è possibile Questo è proprio No però solo Aspetta aspetta Io mi impegnerò Solo se lasciate like al video di Nico Ragazzi E vi iscrivete al suo cacchio di canale Che deve arrivare a 100.000 iscritti Deve avere anche lui Il play button Iscrivetevi Che si sta già gasando Mi raccomando E vi vengo a cercare a casa Non sono bravo a spararvi Solo l'estate non vale Ci vediamo Alla prossima Questi sono due streamer Comunque Io sono un youtuber Espero Siamo un Sud Turnipo Ciao 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 갖고 a